È una preziosa e ricca collezione d'arte che racchiude la storia d'una vita, fatta di 40 anni di viaggio in tutto il mondo, curiosità e desiderio di conoscere le tradizioni e costumi di altri popoli. Cinque vetrine colme di opere, 2600 pezzi custoditi all'interno del Museo Etnico Bagnaresi, recentemente istituito nella sede della Fondazione Carifano grazie ad un'importante donazione. Una collezione di privata donata dalla Bagnaresi e questo è un tesoro di Fano che vorremmo come associazione culturale farlo conoscere e valorizzare il più possibile. Perché è un tesoro veramente eccezionale, 106 paesi, 5 continenti, pezzi scelti di grandissimo livello culturale, artistico e che rappresentano un po' tutto il mondo. Oltre 160 maschere realizzate a mano, sculture, vasellame, avori, armi da taglio, bastone e tanto altro, realizzato da maestri artigiani da cui non si può non rimanere affascinati e incuriositi. Questa è una maschera della Papua Nuova Guinea, vedremo anche maschere di tutto il mondo, poi anche africane, di tutti i paesi, tutti i pezzi unici scelti da una persona di grande cultura che oltre alla passione dei viaggi aveva anche la capacità culturale di scegliere il meglio di ogni paese. Siamo in un'unica sala la cultura del mondo. L'amore per la città e soprattutto l'amicizia fraterna con Aldo Mancurti hanno convinto Maria Teresa Bagnaresi, figlia di Giacomo, il noto primario di medicina fino agli anni 60 dell'ospedale di Fano, ad effettuare l'importante donazione alla Casa di Risparmio. Durato insieme alla donatrice Bagnaresi, questa mostra, sin dal 2010 abbiamo iniziato a catalogare tutti gli oggetti che la Bagnaresi aveva intenzione di donare e poi mano a mano li abbiamo collocati in queste vetrinette, poste, però è quasi inaccessibile in quanto, essendo sopra i locali della fondazione stessa, questo museo al sabato e alla domenica non può essere mai aperto, quindi Fano, i Fanesi non sanno nemmeno che esiste. Un tesoro ancora sconosciuto alla maggior parte dei cittadini che sabato scorso è stato possibile ammirare grazie all'associazione Ex Concordia Felicitas, che ha messo a disposizione l'intera mattinata per illustrare ai visitatori il prezioso patrimonio culturale. Alessandro, qual è lo scopo della vostra associazione? Noi abbiamo uno scopo culturale, far conoscere le cose belle di Fano e oltre, quindi lo scopo è aumentare la cultura, siamo assolutamente un'associazione no profit, il nostro è solo, e questo è un esempio di cultura, addirittura di tutto il mondo, e speriamo che presto questo museo sia un lustro per Fano, come tante altre cose che poi in futuro vorremmo valorizzare. Per visitare la mostra, completamente gratuita, è possibile contattare la segreteria della fondazione o inviare una mail.